Ave Maria, ave Maria. Ave Maria. Per il mistero dell'assunzione in cielo della Vergine Maria, resa partecipe in anime e corpo della gloria del Figlio risorto, disponiamo i nostri cuori a celebrare questa Eucarestia, riconoscendo i nostri peccati e affidandoci alla misericordia di Dio. Signore, figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello. Cristo, figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza. Signore, figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore, figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre, amm. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che hai innalzato alla gloria del Cielo, in corpo e anima, l'Immacolata Vergine Maria, Madre del Tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo Si aprì il Tempio di Dio, che è nel cielo, e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di dodici stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corne sulle teste, sette diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna, che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scetro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna, invece, fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Parola di Dio Diciamo insieme Risplende la regina, Signore, alla Tua destra Risplende la regina, Signore, alla Tua destra Figlie di Re, fra le Tue predilette Alla Tua destra sta la regina, i nori di Ofir Risplende la regina, Signore, alla Tua destra Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre Risplende la regina, Signore, alla Tua destra Il Re invaguito della Tua bellezza È Lui il tuo Signore Rendigli omaggio Risplende la regina, Signore, alla Tua destra Dietro a lei le vergini, sue compagnie Condotte in gioia ed esultanza Sono presentate nel palazzo del Re Risplende la regina, Signore, alla Tua destra Alla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi Fratelli, Cristo è risorto dai morti Primizia di coloro che sono morti Perché se per mezzo di un uomo venne la morte Per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti Come infatti in Adamo tutti muoiono Così in Cristo tutti riceveranno la vita Ognuno però al suo posto Prima Cristo che è la primizia Poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo Poi sarà la fine Quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre Dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza È necessario infatti che Egli regni Finché non abbia posto tutti i nemici sotto i Suoi piedi L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte Perché ogni cosa ha posto sotto i Suoi piedi Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio Alleluia 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 Maria è assunta in cielo Esultano le schiere degli angeli Alleluia 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 salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di spirito santo ed esclamò a gran voce, benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora Maria disse, l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, ad Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Ode e a te. L'immagine biblica che Papa Francesco aveva assegnato alla giornata mondiale della gioventù che è stata celebrata nei primi giorni di agosto a Lisbona e alla quale anch'io ho partecipato insieme con centinaio di giovani ragazze della nostra diocese, accompagnati anche da alcuni preti, da alcuni educatori. Dicevo, questa immagine biblica è precisamente quella del Vangelo che abbiamo adesso ascoltato, il racconto della visita di Maria a Elisabetta. In particolare il Papa aveva scelto già qualche anno fa le prime parole del racconto. Maria si alzò e andò in fretta in una città di Giuda, eccetera. Il Papa ha ricordato, ha ripreso questo spunto parlando a oltre un milione di giovani, un milione e mezzo sembra, nella veglia di sabato sera, sabato 5 agosto, quando ha detto loro grazie per aver viaggiato, per aver camminato e grazie di essere qui. E penso che anche la Vergine Maria ha dovuto viaggiare per vedere Elisabetta, si alzò e andò in fretta. Viene da chiedersi perché Maria si alza e va in fretta dalla cugina. Certo, ha appena saputo che la cugina è incinta, ma anche lei lo è. Perché allora andare se nessuno gliel'aveva chiesto? Maria compie un gesto non richiesto e non dovuto. Maria va perché ama e chi ama vola, corre lietamente. È una citazione del libro dell'Imitazione di Cristo. Maria va perché ama e chi ama vola, corre lietamente. Questo è quello che ci fa l'amore. Così appunto diceva il Papa ai giovani la sera nella grande veglia Lisbona il 5 agosto scorso. Sì, dentro al gesto apparentemente semplice, elementare di Maria che si alza, si mette in piedi e parte in fretta, sta rinchiuso un mondo intero e non solo il mondo rappresentato dai giovani che si sono raccolti intorno al Papa e che sono convenuti a Lisbona. C'è il mondo del nostro essere umani, in ciò che ci distingue anche rispetto agli altri esseri viventi. Noi quando pensiamo a questo, a ciò che ci distingue appunto rispetto agli altri esseri viventi, pensiamo subito a cose come l'intelligenza, la libertà, la volontà, cose importantissime senz'altro. Ma se in modo solo apparentemente più semplice il primo tratto del nostro essere uomini e donne lo individuassimo invece proprio in questa possibilità che a un certo punto si è destata nei nostri lontanissimi antenati, alzarci, stare in piedi e così tra l'altro non è poco, allargare lo sguardo in avanti e anche verso l'alto e poterci mettere in cammino. alzarsi, stare in piedi, camminare è un primo modo di onorare la nostra umanità, che forse proprio per questo poi si apre ai doni dell'intelligenza, della libertà eccetera. Sta di fatto che anche quando si tratta di parlare del rapporto con Dio, la Bibbia riprende proprio questo linguaggio, non parla in termini teorici. Pensiamo a come incomincia l'avventura di Abramo, nostro padre nella fede, modello di tutti i credenti. Parte questa avventura dal comando di Dio che mette Abramo in cammino, esci, vai via dalla tua terra, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti mostrerò. La fede di Abramo si mostra proprio così, con il fatto che egli si mette in cammino fidandosi della promessa che Dio ha in serbo per lui. Alzarsi e camminare vuol dire dunque parlare anche della fede. A Maria, che si è messa in cammino per arrivare nella sua casa, Elisabetta dice, beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto, beata per la fede, beata perché proprio questa fede ha fatto sì che Maria si alzasse e si mettesse in cammino. Alzarsi e camminare è il segno di ciò che Dio è venuto a dare all'uomo, nel suo figlio Gesù, il figlio nato dalla Vergine Maria. Alzati e cammina, dice Gesù ai paralitici, quello che gli portano facendolo calare giù dal soffitto, dal tetto della casa o quello che incontra alla piscina della porta delle pecore a Gerusalemme, ma non lo dice solo a loro, alzati e cammina, lo dice a tutti, lo dice a tutti noi, lo dice all'umanità paralizzata dalle sue fragilità, dalle sue paure, dai suoi peccati. Gesù è venuto a dire a tutti questa parola, a dare a tutti la possibilità di rialzarsi e camminare sempre, quale che sia il peso che vorrebbe tenerci a terra. Questo peso del resto Gesù l'ha condiviso fino all'estremo nel mistero della sua Pasqua e la fede nel Signore risorto poi afferma proprio questo, che colui che era stato ucciso e messo nel sepolcro si è rialzato. Il primo senso dell'espressione è risorto è proprio questo, si è rialzato perché la morte non ha potuto tenerlo prigioniero e ha ripreso il suo cammino. Pensate all'immagine di Gesù che cammina risorto, che cammina insieme con i discepoli verso Emmaus. Anzi, la Pasqua, Gesù risorto, ci ha mostrato qual è la vera meta, la meta piena e definitiva di questo cammino, che è l'amore del Padre più forte della morte, è la pienezza della vita di Dio nella quale Egli ha introdotto la nostra umanità perché tutti potessimo arrivare fino lì. E per questo anche Dio ha già condotto fino al termine di questo cammino, fino alla pienezza della risurrezione della vita, anche la madre di Gesù, Maria di Nazareth, in modo che in lei noi possiamo avere l'immagine e l'anticipazione del nostro destino e possiamo contemplare in lei il senso della nostra chiamata ad essere uomini e donne che appunto onorano la loro umanità, camminano guardando alla promessa di Dio, seguono Gesù Cristo e con Lui e per mezzo di Lui vivono la vita come una Pasqua, cioè come un passaggio, un cammino certo, insieme lieto e faticoso, bello e impegnativo da questo mondo al Padre. E forse il modo migliore per sperimentare anche noi la gioia e la bellezza di questo alzarsi e mettersi in cammino è preoccuparci di aiutare gli altri a fare lo stesso. Gesù, lo diceva, ha fatto questo, ha fatto rialzare chi sembrava ormai prigioniero della morte, ha rimesso in piedi, in cammino uomini e donne paralizzati in mille modi. Ecco, chiede anche noi, Suoi discepoli, di partecipare di questo suo dono e servizio. Anche noi possiamo offrire agli altri segni di speranza, possiamo aiutare a rialzarsi chi è caduto, accompagnare il cammino della vita di chi fa più fatica, possiamo visitare un ammalato e farlo sentire meno solo, possiamo dire una parola di fiducia a chi è stanco e oppresso della vita, possiamo dare una mano a chi non ce la fa più, possiamo offrire ai giovani segni e gesti di incoraggiamento e di futuro. Ecco, anche noi ci alziamo e camminiamo come ha fatto Maria, non solo per se stessa ma anche per altri, per la sua parente Elisabetta, ma anche per tutti quelli e quelle ai quali ha donato il suo figlio Gesù. Ecco, la sua assunzione in cielo che oggi celebriamo rendendo grazie a Dio ci assicura che non ci alziamo e non camminiamo in vano, ci assicura che la risurrezione del suo figlio già opera in noi e ci invita a percorrere fino in fondo la strada che conduce alla pienezza della vita. Grazie. 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 celebrazione odierna splende la luce della Pasqua. Maria, immacolata nella sua concezione e intatta nel parto divino, è assunta al cielo in corpo e anima. Sia lei, arca della nuova alleanza e donna vestita di sole, a sostenere la nostra supplica. Diciamo insieme, rinnova la nostra speranza, Signore. Per la Santa Chiesa, perlegrina nel tempo, sostenuta dalla Vergine assunta in cielo, possa condurre tutti a contemplare la luce del volto di Dio. Preghiamo. Rinnova la nostra speranza, Signore. Per i popoli dilaniati dalla guerra e dal terrorismo, sotto lo sguardo di Maria, fortezza degli oppressi, la comunità internazionale promuova trattative finalizzate alla pace. Preghiamo. Rinnova la nostra speranza, Signore. Per i disabili, gli anziani, i malati, uniti alla Vergine Madre, affrontino il disagio e la solitudine senza perdere la speranza. Preghiamo. Rinnova la nostra speranza, Signore. Per le donne che hanno accolto la vocazione alla vita virginale, affidandosi a Maria, modello della verginità consacrata. Alimentino le loro lampade con la preghiera e la carità. Preghiamo. Rinnova la nostra speranza, Signore. Per noi qui riuniti nel ricordo grato dell'assunzione di Maria, per la sua intercessione, cresca nei nostri cuori la beata speranza di giungere alla gioia della Patria Celeste. Preghiamo. Rinnova la nostra speranza, Signore. Accoglio, Padre, la preghiera del tuo popolo e fa che, contemplando il mistero di Maria, associata in corpo e anima alla Pasqua del tuo Figlio, riconosciamo in ogni persona la tua immagine e il riflesso della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie a tutti. 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 Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo, nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore del Cielo ha dato le tue mani in questo sacrificio. Allora vi gloria a nessuno, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa. Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode, e per intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cielo, i nostri cuori, ardenti del tuo amore, aspirino continuamente a te. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore, nostro Dio, per cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie, sempre e in ogni luogo, a te Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo. Segno di sicura consolazione e speranza per il popolo pellegrino sulla terra, risplende come primizia e immagine della Chiesa, chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro, colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio, Autore della vita. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, 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 Osanna nell'alto dei cieli. Bene, benedetto colui che viene, benedetto colui che viene, benedetto colui che viene, benedetto colui che viene, nel nome del Signore. Osanna, 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 Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventi noi il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse, prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai Suoi discepoli e disse, prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede Annunciamo la tua morte, Signore Proclamiamo la tua risurrezione Nell'attesa della tua venura Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il Regno promesso ai tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e Suo Sposo, i tuoi Santi Apostoli, Glorisi Marti, San Pantaleone, il Beato Alfredo e tutti i Santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Daniele, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai ridento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle defunte e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli anni. Secondo l'insegnamento ricevuto dal Signore Gesù animati dallo Spirito Santo osiamo dire Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così interno dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. liberaci o Signore da tutti i mali concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo Signore Gesù Cristo che hai detto ai tuoi apostoli vi lascio la pace vi do la mia pace non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà tu che vivi e regni nei secoli dei secoli Amo la pace del Signore sia sempre con voi scambiatevi il dono della pace Pace siamo Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Ambi pietà di noi Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Ambi pietà di noi Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Una a noi la pace Ecco l'Agnello di Dio ecco colui che toglie i peccati del mondo Beati gli invitati alla cena dell'Agnello O Signore non sono degno di partecipare alla tua vita ma di soltanto una parola e io sarò salvato Canto la comunione O Maria Santissima 245 O Maria Santissima Dolce Madre di Gesù Stendi il tuo manto sopra tutta la terra rendi sicuro il cammino qua giù Ave Ave Maria Ave Maria Ave Maria O Maria Purissima Sei l'eletta del Signor Salva i tuoi figli Salva i tuoi figli Guida lì al cielo Sorreddi tu la speranza nel cuor Ave 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 Maria Ave Ave Maria Ave Ave Maria Ave 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 Maria Ma che ogni uomo incontri al Signore e si diffonda tra i figli l'amor. Ave, ave Maria. 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 Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. 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 Ave Maria.